Quale soluzione stai adottando per la depurazione delle acque reflue che preservi l'ambiente? Le attività produttive hanno l'obbligo di evitare inquinamenti dovuti a cattiva gestione delle acque di scarico. È un reato ambientale. Ma la depurazione delle acque reflue è una necessità anche per chi abita in zone non servite dalle reti fognarie. Per tutto questo c'è Intecna 2003. L'azienda che progetta, realizza, installa e gestisce sistemi di depurazione delle acque per privati e imprese. Il nostro obiettivo è la salvaguardia dell'ambiente e le nostre soluzioni sono versatili e altamente tecnologiche. Partiamo dall'analisi della situazione specifica e progettiamo una soluzione su misura per le tue esigenze. Rimaniamo al tuo fianco anche nel post vendita, monitorando costantemente lo stato dell'impianto e sbrigando al posto tuo le pratiche burocratiche per il raggiungimento delle autorizzazioni necessarie, come l'agua. I nostri impianti garantiscono un trattamento dell'acqua efficace. L'acqua contaminata, sottoposta a vari stadi depurativi, secondo cicli di processo gestiti da PLC, viene depurata, fino a tornare pronta per essere riutilizzata a seconda del trattamento di depurazione effettuato oppure reimmessa nella rete fognaria o in corpo recettore, nel pieno rispetto delle normative. Gli impianti Intecna sono l'ideale anche per il recupero e la depurazione delle acque piovane dai piazzali e dalle coperture. L'acqua è fonte di vita. Progettiamo insieme la soluzione ideale per le tue esigenze. Contattaci!